Roddi in Fiore Silvano Martignoni, da dove nasce la tua arte? Allora, io ho iniziato ad occuparmi di incisione subito dopo gli studi all'Accademia di Brera a Milano e questo mondo dell'incisione era dedicato al bianco e nero. Negli ultimi anni ho inserito anche un discorso di pittura con un'attenzione contemporanea, vale a dire natura non più solo di riflesso alla fotografia, del paesaggio, ma un'interpretazione personale che comprende anche un mondo onirico, una stratificazione dei ricordi, insomma una scoperta di questa natura oggi un po' bistrattata che viene però a manifestarsi con uno sguardo anche alla natura universale. Io riprendo anche temi della cultura, del paesaggio orientale che amo molto, ma sovrappongo sensazioni, ricordi della mia vita, i paesaggi che ho conosciuto fin da bambina, i giardini che ho osservato con interesse. Quindi tutti questi ricordi si stratificano nella mia mente, trovano un'espressione proprio visiva nelle composizioni che a volte sono anche arricchite da presenze floreali, elementi un po' anche di rielaborazione, sempre guardando però con attenzione contemporanea, vale a dire oggi abbiamo il nostro background, l'arte, come dire, dall'impressionismo, il paesaggio è cambiato, è cambiato tantissimo, il territorio si è trasformato e quindi è giusto che l'interpretazione dell'artista oggi abbia una resa, senz'altro come dicevo prima, meno fotografica. Per quanto riguarda questa sede espositiva, il paesaggio è fantastico, la natura è indirizzata dalle mani dell'uomo, dalle attività anche economiche, però c'è molto rispetto per appunto quello che è la natura di queste colline meravigliose. Quindi io ho accettato l'invito del dottor Lorusso a esporre qui in questo castello, che anche come edificio è veramente un edificio importante, insomma, è un castello di grandi dimensioni, è molto ben costruito, da proprio l'idea di questa fortezza che domina il territorio circostante. Le sale sono naturalmente molto luminose, ci sono delle particolari diafreschi che andrebbero anche un pochettino più valorizzati, ma senz'altro penso che questa sia l'intenzione del sindaco, della giunta comunale, del comune intero di Roddi. Quindi ringrazio anche tutti quelli che mi hanno aiutata per l'allestimento di questa mostra. Grazie, da Granda.net. Grazie mille a lei. Grazie mille a lei.